Cari giovani di ogni parte d'Europa, Africa, America, Asia e Oceania, benedico anche i vostri paesi, i vostri desideri e i vostri passi verso Cracovia, perché siano un pellegrinaggio di fede e di fraternità. Il Signore Gesù vi conceda la grazia di sperimentare in voi stessi questa Sua parola. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.